Può essere un problema piccolo per la maggioranza, le singole persone hanno veramente grosse difficoltà, questo è un primo passo. La decisione da parte della Giunta regionale di tutelare i propri dipendenti transessuali in modo da vedere riconosciuta anche sul luogo di lavoro la propria identità percepita è stata accolta con comprensibile favore dalla comunità arcobaleno, laddove almeno per il momento non si registrano prese di posizione da parte della Diocesi. Da noi contattato il direttore di Vita Nuova non ha voluto commentare quanto uscito da Piazza Unità. Antonella Nicosia sottolinea come si tratti di un primo passo, per il momento come dire interno. Noi speriamo vivamente che il frigo di Venezia Giulia faccia da scuola per le altre amministrazioni, che sia in là per una presa di coscienza fino ad arrivare a livello nazionale che in questo momento ancora è mancante di normative in merito. L'iniziativa della Regione, spiega la Nicosia, arriva dopo una fitta serie di contatti e l'adesione ad una rete specifica. È frutto dell'adesione alla rete Redi il fatto di cominciare a ragionare sull'inclusività di tutte le persone. Ora, incassato questo importante risultato, le comunità si aspettano, senza eccessivi patemi, che la politica entri prepotentemente in scena e trasformi tutto in un campo di battaglia, stravolgendo il significato della decisione della Regione, anche perché vi sono importanti appuntamenti in vista. Siamo sotto elezioni tra un po', quindi verrà sicuramente... ci saranno i denigratori, con le solite frasi, con i soliti luoghi comuni. Non sono questi i problemi importanti, ci sono cose più importanti da risolvere, ok? Resta il fatto che da qualche parte bisogna comunque iniziare.